e ora bisognava andare via verso una città sconosciuta nella strana italia diventata la patria come sarà questa napolis in cui fra poco ci trasferiremo sospirò si strinse con le braccine che cominciavano a tornirsi non ne sapeva molto pensava chissà perché fosse grande e bianca con mille cupole verdi di ceramica forse aveva sentito dirlo da qualcuno si provò a figurarla c'era anche un monte il famoso vulcano vesuvio che sputava lava fuochi ceneri ne risultava una curiosa immagine tutta gobbe verdognole tra esse quella bruna d'un monte in cima ai quali guizzavano linguacce di fuoco un po sinistre agitate dal vento come le torce in laterano ricordò che doveva esserci anche il mare provò a dilatare nella memoria l'ansa pulita del tevere quella al di là di ponte cisto perché lei il mare non l'aveva ancora mai veduto pensò infine che a napoli esisteva un re chissà che faccia aveva lo figurò col viso gonfio del re portoghese jose primeiro carico di un'enorme parrucca bianca a buccoli come nel ritratto che vovò serbava con stampe colorate di costumi duregni dentro una lucida cartella di seta viola ma papà le aveva detto il nuovo re è un bambino allora cancellò ogni cosa allegramente si disse che le sarebbe piaciuto correre con questo bambino re per un giardino o giocare a volano per un po le parve che il piccolo re somigliasse a migelzigno ma biondo indossava una giamberghina di velluto rosso in testa aveva un enorme corona di latta dorata che gli traballava poi gli cadde in terra con rumore tutte e due scoppiarono a ridere fragorosamente bisogna prima imballare tutto dai mobili ai vestiti e spedirlo per corriere a napoli dove si era già trasferito papà una fatica disumana tra martellare di falegnami e parolacce di facchini rimescolio di roba polvere ricordi saldo via all'alba splendida dell'otto di settembre eccitati i giovenissimi un po' svogliati cupi i grandi era un po' stordita per la levataccia la confusione dei sentimenti ma pian piano mentre la diligenza srotolava i cerchioni giganteschi sui ciottoli dell'abbia strano sottile entusiasmo d'avvenire dignoto l'avviò le piacquero lo zoccolare cadenzato e tondo dei cavalli di Francia il sentore di stalla fieno finimenti che impregnava la diligenza era bello soprattutto guardar fuori contro il cielo azzurrissimo lo sfilare dei grandi pini verde cupo delle macerie antiche i cavalli andavano di buon passo ai fischi del postiglione nonostante la via si inerpicasse ora si succedevano cipressi, frassini, pioppi ancora nel rigoglio dell'estate recente e i vecchi casali stonacati osterie con festoni di salami, formaggi inghirlandate da curiose pallottole lisce color del burro «Anvedi li lattari del Nemi!» esclamò qualcuno nella diligenza «Au!» gridò il postiglione e schioccò la frusta la strada sare fatta aerta i cavalli avevano rallentato l'andatura «State attenti ragazzi!» «Ammonititi!» «Stiamo salendo sui colli albani» «Tra poco arriveremo in un paese che sorge dove era l'antica Alba Longa» «Ve ne accorgerete da una porta pretoria romana con tre fornici all'ingresso» provò emozione ne avveniva gli incontri con gloria e antichità viveva i fatti, vedeva i personaggi anche adesso, mentre andavano per le vie percorse dagli eserciti di Roma e d'Alba l'antichissima madre tra quelle schiere marciavano i sei gloriosi, decisivi fratelli fantasticò, mentre la diligenza attraversava il fornice centrale della porta sobbalzò quando all'uscita dal paese Titì indicò una costruzione bianca sommersa da tralci dicono che sia la tomba degli orazzi e dei curiazzi spiegò incredulo anche vovò si strinse nelle spalle forbottando «como è possibile?» provò addirittura astio verso loro «perché non ci credevano?» era possibilissimo, anzi vero, lo sentiva lì avvenne lo scontro dei guerrieri si battevano per la patria «è così bello che un uomo abbia una patria da amare su ogni cosa fino al punto da morire per essa» mandò un bacio mentale a quel sepolcro mentre la diligenza rotolava con orrendi sobbalzi sull'acciottolato sconnesso alla posta di Velletri prima di ripartire quei cavalli freschi il postiglione ammonì «non vi scordate niente? vi siete scaricati? avete fatto provvista? le qua a Terracinano se potemo fermar più» «e perché?» domandò Miguel Zigno che ti rispose serio «perché dovremmo attraversare le paludi pontine» l'avvertimento preoccupò e a zitti i ragazzi lei fissava il paesaggio con inquietudine non sapeva granché di queste paludi ma il nome stesso forse qualche reminiscenza di cose lette o udite la tennero sospesa quasi di lì a poco dovessero inoltrarsi per lande desolate paurose come l'Ade il mondo dei morti di cui parla Omero paesaggio ed aria invece restavano puliti sebbene qualcosa vandasse impercettibilmente mutando man mano il cielo perdeva un po' dei propri colori finché divenne bianco come metallo riflettente il sole respirare fu pesante vovò prese ad agitarsi sembrava infastidita dalla cascata di pieghe del bandrie che si andava rassettando intorno alle gambe sul grembo era pallida cerchiata d'occhiaie tutti nella diligenza apparivano stanchi asciugavano i volti madidi d'improvviso le paludi comparvero all'orizzonte ingrigito si delineò una fascia nerastra di montagne tra queste e la via una steppa molle interrotta da greti ciottolosi foreste di canne orlavano acquitrini verdastri spalmati di materia putrefatta ne salivano voli neri d'uccelli dalle lunghe zampe che lamentandosi rigavano la cenere del cielo l'aria si faceva fradice da sentirsi male vovò aveva gettato il capo all'indietro ansava grosse gocce di sudore le colavano sulle guance illividite ma maè cercava di rinfrescarla con un panno bagnato meus deus quanto ancora ormai la scena appariva sempre uguale monotona infelice d'un tratto vide con stupore fra le canne una mandra di strani buoi nerissimi ossuti dalle corna falcate incrostati di melma